Musica Si va in Sicilia Musica Musica Adesso siamo qua in piazza con una bella truppa della Federazione Italiana Pochi C'è l'apertura di Cibo Nostro un 2016 Robè Ed ecco qui Ecco qua c'è l'epme che è un po' che Esatto, esatto Gorgoglio un po' Ma noi siamo pronti, lo monitoriamo Dipartimento di emergenza è sul posto Assolutamente Musica 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 E qui c'è la catena di montaggio degli arancini Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivati adesso andiamo a cucinare. Grazie a tutti. Abbiamo trovato tutto. Facciamo un assaggio di pasta di mandorle. E invece qua dietro è uno spettacolo di pasticceria. Se passate da Taormina non potete evitare di entrare qua. Se c'è il buricino è fatto io di là. Grazie. L'importante è la salute. Passa qua. Allora. Eravamo venuti qua per un po' di pasticceria di mandorle. Abbiamo assaggiato due cose. Non siamo riusciti a evitare di portare a casa tutto. Quindi non ho assaggiato niente. Non ho assaggiato niente. Fantastico. Grazie di tutto. Grazie. Ciao. Un boccato cuore. Ciao. No qua. Tutti questi gradini mi sembra di essere a Monte Carlo. Ma io adesso quando arrivo in cima mangio qualcosina. Non ho ancora mangiato niente. In cima. Fabri. Arance non ci servono. Le hanno appese sugli alberi qua le arance. Noi troviamo una le cassette e loro le hanno messe sulle piante. Ma non c'è niente da mangiare qua. Ma non si mangia. Pulisci le briciole. E niente in pratica oggi siamo in questa via qua centrale di Taormina e prepariamo un risotto con limone e rosmarino mantecato all'olio extravergine con un po' di acciughini in mantecatura. Non so se mi spiego ma come location per cucinare mi fa male. Quando è che si mangia qua? Qua non si mangia mai niente. Niente. Quando è che sono qua? Adesso il Carlo è là. Niente. Due giorni che sono qua che se non si mangia. Si ha mangiato di tutto. Ha mangiato gli arancini, la pizza siciliana, la granita buonissima. Adesso devo dare le pentole. Ci vediamo dopo. Carlo, da Presidente Vicario si è andato ad aiutare il popolo e portare la granita. Il piatto tipico colazione siciliana. Drioche e granita alle mandorle speciale. La urbina ancora vale molto di più. Ma qua non si mangia mai niente qua. Io da mangiare qualcosa, non si mangia niente. Ho appena fatto un chilo di pasta di mandorle. Ti ha bambiaccato ma non puoi più dire che non mangi. Io non ho ancora mangiato niente. Dai. Ma qua non si mangia niente mai. Dai, quando è che mangiamo qualcosa? Briochina. Grazie carlo. Ma lui te, te lo chiedi un giorno apposta per farle. Da me non c'è niente da mangiare per me. No. Hai già quasi finita. Ma che maiale che sei? Cosa? Niente, niente. Ma prima dovevi firmare però. A prima. Ma che non sei a te. No, dovevi firmare qua. E' firmato qua. Ducidente. Ma quando è che si mangia qua? Che non abbiamo ancora mangiato niente. Cosa, ma è tutta la mangiata. Uh, sempre a dormire. Cioè noi scendiamo dalla Lombardia per mangiare e questa è la Basilicata per dormire. Si è fatto fuori un chilo di pasta di mandorle. Ok, ho preso i piattini. Adesso andiamo in postazione e iniziamo a fare il risotto. Vai Carlo. Vai a prendere le piadine. Sempre qua, eh. Foto. Dai, oggi facciamo il risotto, ragazzi. Scusate, qua non si mangia mai però. Qua si lavora e non si mangia mai. 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 Amin 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 Riccardo ma qui non si mangia mai? Quando è che cominciamo a mangiare qui? Ma cosa c'è con bocca? Cosa vuoi? Tutto il giorno che mangia perché si mangia mai Sono venuti di Sicilia mentre si mangiava non si mangia mai Si mangia Apri la bocca La verità è che dobbiamo fare dell'altro risotto. Tu mancia? Quando è che si mangia qua? Ma è tutta la mattina che stai mangiando! Io? Ma dove? Guarda lì! No! Non ho ancora mangiato niente io. Ci dovrà andare a mangiare prima o poi qualcosa. Non ti preoccupare. Al massimo abbiamo un risotto. Ma posso mangiare anche quello? Se lo faccio io sì. Io è tutto il giorno che non mangio niente. Usiamo tutto quello che ci consente la natura di usare. A presto! 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 premonizione che adesso vado vicino col bidone la e mi dice che non ha ancora mangiato niente Fabri tutto bene? Ciao Ricky Ma qua non si mangia mai, io ho due giorni che sono qua e non si mangia mai Come si fa a capire quando arrivano i cannoli? Perché la massa di gente assale il buffet Ecco lì, oh Sebi grazie di tutto mi hai fatto visitare per la prima volta la Sicilia con questo bel evento di cibo nostro E quindi niente, alla prossima allora Assolutamente sì, per me è stato un piacere avervi Sono felice di far parte della grande famiglia di federazione tenagocchi Perché significa grande amicizia, grazie a voi Grazie Sebi, ciao Arrivata l'aeroporto di Catania e adesso si parte Hai preso qualcosa? Sì ma quando è che si mangia qua in Sicilia? Due giorni e non ho ancora mangiato niente Quando è che cominciamo a mangiare qualcosa? Avrei preso tre chili Non ho mangiato niente ancora fino a adesso Ma guarda che stai mangiando pure l'arancina Me l'ha andato ad assaggiare questo, non è mica No, salattino È solo una prova Volevo mangiare qualcosa ma in Sicilia vai e mangi Non si mangia niente Non ho ancora Quando è che si mangia? Va bene, io faccio vedere questo video qua al tuo dietologo Poi vediamo Non ho ancora mangiato niente Ma hai visto già seduto da qualche parte? Tutto a posto Ecco allora Ci rivediamo Avergo Arrivati pure da sto viaggio Direttamente sulla pista Adesso si torna a casa Adesso si torna a casa Grazie a tutti.